Pugno duro del sindaco di Capaccio Pestum, Franco Palumbo, dopo lo sgombero di un residence abusivo in località Linora. La situazione di quel residence, afferma il primo cittadino, era nota a tutti perlomeno da dieci anni, ma evidentemente nessuno aveva interesse a ripristinare le regole. Da oggi chi pensa di farla franca, gestendo strutture ricettive abusive o case vacanze in nero, si sbaglia. È solo questione di tempo. Già nelle settimane precedenti l'amministrazione comunale, in sinergia con l'istituzione Poseidonia, partecipata che si occupa delle strategie legate al turismo nella città dei Templi, ha avviato una campagna di azione per contrastare la ricettività non autorizzata. 300 in tutto le situazioni sospette individuate.